Il tasso di disoccupazione in Italia resterà alto e ci vorranno 20 anni per tornare ai livelli pre-crisi, cioè prima del 2008. Questo è il quadro impietoso tracciato dal Fondo Monetario Internazionale nel suo consueto rapporto sull'area euro. Secondo l'FMI, senza un significativo rilancio della crescita, l'Italia impiegherà almeno due decenni per realizzare un apprezzabile cambio di tendenza. Intanto da Roma il Ministero delle Finanze ha tenuto a precisare che la stima del Fondo sull'occupazione italiana però è basata su una metodologia che non tiene conto delle riforme strutturali che già sono state introdotte e nemmeno di quelle che verranno attuate verosimilmente nei prossimi 20 anni. Le previsioni sono per loro natura stupide, nel senso che non tengono conto degli aggiustamenti successivi che possono essere messi in atto proprio dopo le previsioni stesse. Quindi certo se le cose non cambiano, questo è lo scenario. Bisogna comunque fare qualcosa di più altrimenti l'alto tasso di disoccupazione, soprattutto quella giovanile, rischia di danneggiare seriamente il potenziale del capitale umano e dar luogo ad una cosiddetta lost generation, una generazione di lavoratori perduta. La disoccupazione giovanile nell'area europea si attesta intorno al 23%, in Italia invece supera il 40%, un abisso rispetto al 7,9% della Germania dove certamente non si parla di generazioni perdute. Il rapporto trova un colpevole ben preciso al male dell'Italia che è quello del crollo degli investimenti privati. Il crollo degli investimenti privati vuol dire non adeguare macchinari, impianti, innovazione e quindi una produttività molto più bassa degli altri paesi europei. I colpevoli sono tanti, non sono ripartiti gli investimenti pubblici come negli Stati Uniti dopo la crisi, difficoltà di accesso al credito delle imprese, problemi del sistema paese, inefficienza della giustizia e burocrazia. Anche se si intravedono i primi sentori di una ripresa, la situazione rispetto all'occupazione nel nostro paese resta comunque difficile e oggi lo è ancora di più di quando nel 2008 è cominciata la crisi economica. Secondo i dati Istat elaborati dalla CGA di Mestre, negli ultimi sette anni è stato perso quasi un milione di posti di lavoro. Più della metà al sud, 100.000 solo in Calabria, regione Fanalino di Coda, con un secco meno 15,7%. Positivo solo il Trentino Alto Adige e il Lazio, quest'ultima regione, ha visto aumentare l'occupazione del 4%.